Bene, buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana. Lasciamo alle nostre spalle la terza settimana appunto del mese di agosto. C'ercingiamo quindi a chiudere il mese con l'ultima settimana, che partirà proprio dal prossimo lunedì. Ma andiamo a vedere quello che è successo durante l'ultima ottava. In pratica l'annuncio della Cina e i novitazzi verso gli Stati Uniti e Twitter di Trump contro il numero uno della Fed Power spingono in rosso tutte le borse europee. Chiudono al di sotto il punto percentuale sia a Francoforte che a Parigi e rispettivamente a meno 1,15% e meno 1,14%. Perdi a più contenuti invece per Madrid che chiude a meno 0,78% e Londra a meno 0,38%. Dopo una mattinata di rialzi le borse europee hanno virato a ribasso. Il scia dalla notizia appunto che la Cina ha intenzione di imporre nuove tariffe su 75 miliardi di dollari di benistro emitenzi. In seguito, subito dopo l'apertura di Wall Street, gli indici europei hanno poi ultimamente accelerato al ribasso dopo che il presidente Stamivitense, in risposta a Pechino, ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno bisogno della Cina e francamente staremo molto meglio senza di loro. Inoltre, Donald Trump ha sparato a zero ancora una volta contro la politica intrapresa dal governatore della Fed, Jerome Powell, sulla strategia relativa ai tassi di interesse e più in generale sulle valutazioni di carattere di natura economica. Nel dettaglio, il Consiglio di Stato cinese ha affermato di aver deciso di imporre tassi compresi tra il 5% e il 10% sulle merci Stamivitensi, di cui una parte entreranno in vigore dal 1 settembre e la seconda dal 15 dicembre. Il Consiglio ha aggiunto che un nuovo balzello del 25% verrà poi applicato sui ricambi di autostamivitensi. La notizia quindi allontana la prospettiva di un accordo tra le due superpotenze economiche. Gli operatori poi hanno indirizzato l'attenzione durante il pomeriggio sulle parole del numero 1 della Fed al simposio di Jackson Hole. Infatti, Jerome Powell ha dichiarato che la Fed resta pronta a sostenere l'economia americana se il rallentamento globale aggravato dalle ultime evoluzioni sul fronte del commercio geopolitico dovessero danneggiare la crescita americana. Powell non ha tuttavia fornito indicazioni sulle intenzioni della Banca Centrale Americana per il prossimo meeting di settembre. Dura la reazione appunto del presidente Donald Trump che ha scritto su Twitter che la Fed non ha fatto niente, rimarcando dunque l'immobilismo che da mesi imputa a Powell. Per quanto riguarda invece la situazione su Piazza Affari, essa chiude a meno 1,60%, andando poi a registrare la peggiore performance tra le borse europee. Lo spread ha archiviato l'ultima seduta settimanale con un leggero rialzo a 199 punti base. Ovviamente in Italia l'attenzione del mercato rimane rivolta anche al fronte interno, la politica interna. Al termine delle consultazioni il presidente Sergio Mattarella ha deciso di dare ai partiti fino a martedì per cercare una nuova maggioranza formata da partito democratico e Movimento 5 Stelle che arrivi a fine legislatura come alternativa al ritorno alle urne. Notizia apprezzata dai mercati, sempre più convinti che la possibilità di nuove elezioni in ottunno sia molto bassa. A Piazza Affari chiude al primo posto quindi ricordati all'1,2%, in positivo anche Juventus 1,1% e Terna. Debole invece Leonardo a meno 1,3%. Bene, per quanto riguarda invece le news dell'ultima settimana, dell'ultima giornata, non ci sono dati importanti. Alla fine diciamo erano tutti concentrati appunto sul simposio di Jackson Hole e sulla conferenza stampa di Powell. Bene, andiamo invece subito a vedere un po' quello che succederà per quanto riguarda il calendario macroeconomico della prossima settimana. Si parte dal lunedì 26 agosto, in Gran Bretagna c'è festa, quindi alle ore 10 invece dalla zona euro l'indice IFO sulla fiducia delle aziende della Germania ad agosto. Alle 14.30 dagli Stati Uniti i principali ordinativi di meglio di Ureboli. Martedì 27 alle ore 8 dalla zona euro il PIL della Germania del secondo trimestre ed annuale. E poi alle ore 16 il rapporto sulla fiducia dei consumatori. Mercoledì 28 agosto alle 16.30 abbiamo le scorte di Petro Reggio degli Stati Uniti. Poi giovedì 29 alle 9.55 doppio appuntamento dalla Germania con la variazione della disoccupazione e il tasso di disoccupazione ambedue del mese di agosto. Alle 14.30 dagli Stati Uniti il PIL del secondo trimestre e le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione e poi alle ore 16 i contratti pendenti di vendite di abitazioni. Poi passiamo all'ultima giornata del mese nonché anche ultimo venerdì quindi chiudiamo con le ore 11 dalla zona euro l'indice dei prezzi al consumo di agosto. In contemporanea anche il tassi di soccopazione di luglio. Poi alle 11.30 dalla Gran Bretagna la produzione manifatturiera di giugno. Alle 14.30 invece dal Canada il PIL del secondo trimestre e quello annuale. E poi alle ore 16 l'indice di fiducia dell'Università del Mese del Mese di Agosto. Bene, questo è il calendario macroeconomico che già è stato filtrato con le notizie più importanti che andranno quindi a seguire la settimana prossima. Bene, prima di poter andare alla seconda parte con l'analisi dei nostri pannelli di controllo ci spostiamo sul nostro sito, sul nostro portale andando appunto ad analizzare un po' per chi desidera entrare a far parte della nostra community. Vi consiglio di poter seguire la diretta live, diretta live giornaliera dei mercati dal lunedì al venerdì alle 8.30, alle 9.30, dalle 15 alle 15.30 tenuta direttamente da me, qui sotto potete quindi al di sotto la pagina potete tranquillamente iscrivervi ed semplicemente quindi andando a compilare questo piccolo format e nello stesso contenitore quindi potete anche usufruire della nostra chat telegram quindi chat telegram, anche qua potete andare nella chat telegram, sempre analisi telegram chat e all'interno del, sempre nel nostro portale potete iscrivervi basta quindi anche qua compilare il format e tutto a cura degli analisti di teletrade e di professionisti indipendenti quindi adesso facciamo uno screen sulla chat eccola qui vedete come si presenta la chat eccola qua tenuta direttamente da me e con i vari altri miei collaboratori allora qui abbiamo tutte le operazioni quella l'ultima è stata fatta sull'oro dove è stato preso 120 punti raggiunto 120 punti, tutte le varie analisi quindi gli articoli più importanti breaking news in modo tale che in modo tale che qualsiasi utente che si collega alla chat telegram non ha bisogno di poter andare ad 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 visionare qualsiasi tipologia di sito, di portale basta avere appunto il collegamento anche mediante un vostro smartphone direttamente sul nostro sulla nostra sul nostro scaricare l'app per poter essere sempre aggiornati sui mercati anche per quanto riguarda tutte le varie notizie quindi abbiamo le varie analisi le analisi singole in questo caso il 23 agosto ho fatto un'analisi sull'euro dollaro analizzandolo anche con i nostri pannelli di controllo vedete qua ci sono tutte le principali le principali notizie in arrivo anche dalla Reuters le varie analisi poi la mattina abbiamo il nostro contenitore proprio all'inizio prima dell'apertura delle borse europee breaking news con la guida ai principali eventi della giornata odierna la genera macroeconomica quella che bisogna seguire le varie analisi e quindi uno screen di tutti i nostri di tutte le nostre pannelli di controllo e quindi diciamo è un argomento qua ci sono le varie notizie dell'ANZ addirittura della Reuters sull'azionario quindi analisi sull'azionario sugli indici quindi eccolo qua un'analisi sugli indici e quindi quindi tutta una situazione interessante anche sulla Reuters quindi tutte le più importanti notizie per chi vuole quindi potrebbe può quindi chiedere fare l'iscrizione direttamente sul nostro portale bene detto questo andiamo a vedere un po' come si è chiuso come si sta chiudendo il mese di agosto con il diario di trading abbiamo al momento per quanto riguarda forex e commodity abbiamo al momento 669 punti con alcune operazioni che già abbiamo a mercato per quanto riguarda invece la situazione legata agli indici 317 punti una 317 punti ed mentre invece per quanto riguarda l'azionario abbiamo ancora siamo a più 215 punti bene quindi questo è il calendario al momento manca però manca una settimana alla chiusura del mese di agosto bene detto questo passiamo direttamente all'analisi alla seconda parte con l'analisi dei nostri pannelli di controllo partendo dalla best and worst con l'analisi dedicata alle forze fra le varie della mia watching list quindi abbiamo le percentuali mensili percentuali settimanali e quindi giornaliere allora prima di tutto abbiamo un oro che funge quindi sembra che vuole ritornare con una fase un momento congiunturale avverso che un po' sa un po' non solo per l'Europa e gli Stati Uniti quindi per tutto il mondo l'oro funge da valuta rifugio quindi si trova in questo momento dal primo costo performato rispetto al mese precedente ben l'8,09% o più mentre invece abbiamo quello tra la watching list per quanto riguarda abbiamo US crude che invece tra le commodity meno 6,95 quindi ci abbiamo una netta controtendenza o US crude sotto pressione a causa in quanto essendo uno dei beni una delle commodity che viene diciamo maggiormente che ne sente di più da questa fase soprattutto per quanto riguarda i dazi essendo un bene che viene utilizzato un po' per tutti i comparti industriali come materia prima mentre poi per quanto riguarda la situazione legata agli indici abbiamo tutti gli indici che praticamente variano vanno in una situazione diciamo in mese comporta una situazione negativa per gli indici vedete tutti quanti hanno delle percentuali negative invece per quanto riguarda il comparto valutario la peggiore performance è stata raggiunta dal New Zealand di Iena a meno 5,52 mentre la migliore performance stellina d'oro della Nuova Zelanda a 3,68% anche la settimana vede tutte con vede con alcune indicazioni che poi sono state rimarcate negative da Boris Johnson che poi subito è stato stoppato per quanto riguarda alcune un un accordo ha chiesto un accordo prima del 100 ottobre quindi nel momento in cui c'è stata questa notizia la stellina ha avuto un forte balzo in avanti e poi dopo è stato smentito cioè praticamente il primo è stato il presidente francese Macron che ha detto che praticamente non c'erano i tempi utili necessari per poter per poter fare un nuovo accordo la settimana invece è stata negativa per US crude meno 72 la stessa situazione quindi lo troviamo anche sulle percentuali giornaliere a US crude meno 2,62 e poi abbiamo tutti gli indici che restano ancora sotto pressione mentre invece loro con un balzo subito dopo durante soprattutto un balzo rialzista dovuto subito dopo l'apertura di Wall Street in particolare quando praticamente Powell ha iniziato la sua conferenza stampa si è spinto verso l'alto quindi andando a performare un più 1,89% per quanto riguarda la settimana invece la forza delle singole valute vede una sterlina a 5,27% mentre gli australiani sia il dollaro australiano che il dollaro della nuova zelanda a meno 4,70% e meno 4,78% l'euro resta più 1,64% mentre l'oro resta a meno 1,84% seppure diciamo c'è stato un netto cambio soprattutto per quanto riguarda euro-dollaro questo dopo lo andiamo a vedere anche graficamente resta abbiamo assistito a una netta a un vero e proprio capovolgimento di fronte durante il pomeriggio con le parole di Powell infatti la giornata eseguiva il movimento bearish delle scorse anche delle sedute delle ultime sedute poi praticamente il prezzo è ritornato a salire a riportarsi addirittura sopra 1,11% e precisamente poi a chiudere sopra 1,11% e alla chiusura 1,11% e 37% bene questa è la situazione per quanto riguarda l'EMA dashboard quindi vedremo molto probabilmente la prossima dobbiamo vedere un po' le partenze della prossima settimana in virtù soprattutto anche perché tutti questi movimenti questi grandi movimenti soprattutto sulla stellina sono dovuti fondamentalmente delle notizie esterne quindi che vanno un po' al di là dei movimenti normali naturali del mercato bene passiamo alla net change l'altro pannello di controllo dove abbiamo delle confluenze ribassiste su auto sd su auto cad quindi dove abbiamo su auto cad abbiamo un una operazione ribassista e su auto sd un set stop che al momento è ancora stato triggerato per gli altri invece abbiamo delle situazioni vedete alti e bassi quindi poi dovremo aspettare i primi movimenti anche qua della prossima settimana per quanto riguarda invece l'EMA dashboard l'EMA dashboard invece lo studio per quanto riguarda le medie su diversi su settate in maniera su diversi settaggi su diversi time frame abbiamo praticamente abbiamo un dollaro yen che si mantiene negativo vedete c'è stata una forte movimentazione bearish subito dopo con sempre durante il pomeriggio auto sd una confluenza negativa quindi diciamo abbiamo ottime view ottimi spunti dollaro yen sterlina dollari che potrebbe continuare la sua risalita auto sd possibilità di un sell usd canna possibilità di un sell in un zero un dollaro potrebbe continuare a movimentarsi sell nella sua direzione principale poi abbiamo euro sterlina e euro yen che si stanno mantenendo ribassisti poi abbiamo il comparto diciamo dedicato euro dollaro australiano possibilità di un long poi audien euro franco autogano zeland yen tutto abbiamo i valori sono tutti quanti negativi quindi confluenza bearish e poi come ho detto prima possiamo avere anche sterlina dollaro australiano e sterlina dollaro di una zelana che potrebbero assumere altri movimenti al rialzo mentre per quanto riguarda loro vedete la view è rialzista io escludo invece quello qua conferma quello che abbiamo detto già prima con le percentuali conferma la view ribassista mentre gli indici danno tutte indicazioni ribassiste proprio diciamo c'è stato un vero e proprio netta capovolgimento di fronte dalla prima parte della sessione europeanqua in dove gli indici giravano in positivo e poi dopo c'è stato un vero e proprio capovolgimento durante il pomeriggio sempre con i tweet di Trump e subito dopo la conferenza stampa di Powell bene detto questo andiamo a vedere adesso passiamo alla terza parte l'analisi partendo appunto dell'euro dollaro l'euro dollaro in ottica settimanale vedete ha rimbalzato quindi passiamo su settimanale l'ultima parte proprio l'ultima giornata ha dato quella spinta rialzista portando un'altra volta le quotazioni sopra il livello psicologico 1 e 11 e quindi a questo punto al momento si mantiene sempre quindi è ancora da spartiacco questo 1 e 11 tra i movimenti rialzisti i movimenti ribassisti però ripeto l'analisi può essere vista anche come una movimentazione ciclica vedete qua c'è stato il piccolo apice per poi avere questa movimentazione ribassista ovviamente dovremmo aspettare precisamente un breakout definitivo sotto 1 e 11 per poter far per poter quindi rientrare nuovamente perish sul su fiber con la possibilità di vedere il le quotazioni che possono andare quindi poi a chiudere ancora il gap aperto dalle elezioni di macron quindi del 2017 eccolo qui vedete gap aperto per poi molto probabilmente andare a raggiungere questa zona di demand dopo aver superato quest'altra piccola zona e qua abbiamo tutti i livelli annuali 1,08 988 1,07 031 1,05 45 nel caso in cui invece la view potrebbe però cambiare nel caso in cui 1,11 reagisce a questi movimenti e da qua potrebbero partire delle movimentazioni a rialzo quindi vediamo se la prossima settimana ci sarà quindi ulteriori informazioni che ci darà il prezzo che ci darà la price action per poter decidere se andare long se ci sono le possibilità ovvero le premesse per poter andare long o short bene quindi passiamo al dollaro yen il dollaro yen come già abbiamo analizzato prima il dollaro yen c'è stata una rottura di questo triangolo di cui ne ho parlato proprio durante la diretta live le ultime dirette live mattutine qua abbiamo una zona dove il prezzo vedete zona di supply più volte il prezzo e poi dopo aver testato questa zona il prezzo poi è crollato andando a performare verso il basso un bel po' di punti e precisamente quindi circa 150 punti ora si trova ad stiamo in ottica h4 però possiamo anche analizzare la situazione sul settimanale eccolo qua vedete settimanale abbiamo questa bullish total e quindi dovremmo vedere però se è confermato o meno qua abbiamo la zona PR0 dove il punto D potrebbe addirittura potrebbe raggiungere quest'altra area quindi non esclude la possibilità di poter rivedere di poter rivedere la prossima settimana dollaro yen andare a superare anche l'ultimo minimo quindi ad abbassare l'asticella presentando anche dei minimi più importanti quindi ci spostiamo sul 4 ore vediamo che fondamentalmente eccoci qua vedete come il prezzo dobbiamo andare a vedere che cosa succede proprio su questa zona di supply poi andiamo a vedere sul sterlina dollaro sul cable il cable la settimana è stata una settimana vedete di rialzi ecco il settimanale avevamo questa bullish butterfly che ha risposto molto bene è andato a riprendersi questa zona questa zona di supply vedete è stata questa zona qui 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 e quindi c'è stato questo movimento di circa 300 punti quasi ed dove praticamente potrebbe vediamo un po' se davanti a questo movimento abbiamo 1.24 764 abbiamo un breakout io mi attenderei una piccola correzione per poter rientrare long al mercato però diciamo vedete ha rotto anche sul giornaliero qua si vede molto bene qua abbiamo il punto di swing prima stava qua poi si è spostato qui quindi confermando questa situazione quindi abbiamo una valle e da qua potrebbe partire una bella movimentazione del rialzo diciamo che è confermato il movimento quindi io mi aspetterei una qui sinceramente ad ogni correzione c'è la possibilità vedete eccola qua questo è l'ultimo punto di swing su 4 ore abbiamo una bearish batte quindi vedete ad ogni correzione consiglierei consiglio di vedete ad ogni correzione io consiglio di poter questa è l'area in cui abbiamo avuto questo movimento un'altra zona ad ogni correzione consiglio di poter entrare a mercato nuovamente al rialzo quindi qua abbiamo questa bearish batte su questa zona se viene confermato qui abbiamo un punto di swing primario se viene confermato questo movimento potremmo assistere a un movimento ribassista per poi rientrare nuovamente sell a mercato quindi potremmo avere andando a tracciare fibonacci da questa zona a questa zona ok potremmo avere un movimento fino l'area in cui potrebbe ripartire un long e tra i 50 e i 61 e i 80 usd franco usd franco anche qua abbiamo un netto cambio di tendenza giornaliero eccolo qua vedete movimento dovuto a Powell e anche qua però ovviamente dobbiamo seguire anche l'euro dollaro perché c'è una correlazione inversa poi vedremo cosa succede anche qua abbiamo un punto primario su 4 ore eccolo qua il punto primario e qui andiamo ad analizzare la situazione possiamo andare ad evidenziare questo soprattutto sul giornaliero vedete siamo proprio al test di 50 61.8 dove potrebbe partire una movimentazione al rialzo quindi vado ad inserire una freccia questa zona qua da qua sopra potrebbe partire un long bene quindi vedremo un po' cosa succede alla prossima nel durante e poi abbiamo anche questa bullish total eccola qua vedete con qua il prezzo che si è riportato su questa zona per quanto riguarda invece auto sd allora auto sd la view rotto questo triangolo quindi la view potrebbe continuare ad andare sell potrebbe andare a prendersi un'altra volta il minimo aggiornare il minimo siamo sotto un breakout sotto 0.67 518 ovviamente alla rottura di questa zona di demand potrebbero partire altre movimentazioni ribassiste più importanti questo indicato invece per me resta la movimentazione al rialzo eccolo qua stiamo attoccato vedete 1.33 2.6 1 qui su settimanale 1 2 50 61 8 e qua sotto tiva sell qui per me è un sell vedete falsa rottura falsa rottura falsa rottura pin qua c'è la possibilità di un sell con i vari target quindi usd cad ci potrebbe stare un sell diciamo diciamo questo è lo scenario più importante quindi andiamo vedete qua avevo messo e potrebbe andare verso il basso quindi questo indicato serve vedete qua si vede molto bene e anche qua una situazione interessante però diciamo che usd cad è serio passiamo a new ziland dollaro per quanto riguarda new ziland dollaro invece settimanale continua a performare andare perish eccolo qua anche se poi Powell ci ha dato questa spinta però molto probabilmente potrebbe andare a prendersi quest'altra zona quindi per me resta se passiamo alle commodity poi i cross secondari li andiamo a fare durante le varie dirette live commodity partiamo dal gold il gold abbiamo preso profitto 120 punti su settimanale abbiamo sempre questa bearish debt grab che il punto di resta sempre quello della scorsa settimana registrata nel massimo della scorsa settimana però sta risalendo quindi non escludo la possibilità che possa essere annullata il pattern armonico quindi andiamo sul giornaliero e sul giornaliero vedete che cosa è successo che praticamente il prezzo è andato a riprendersi questo 1527,686 dopo aver testato 1493,103 proprio al di sopra di sopra di questa zona si è formato una base di ripartenza rialzista eccola qua e qui poi è stata la giornata di l'ultima giornata ora siamo sempre all'interno di questa fase abbiamo due massimi decrescenti questo è il massimo che si viene confermato ma sopra 1527,686 potrebbe andarsi a prendere anche questo 1548,1571,73 dovremmo aspettare altre indicazioni da parte del mercato questo è il movimento andiamo su US crude allora per quanto riguarda la situazione legata a US crude abbiamo settimanale anche qua vedete abbiamo una situazione una situazione in cui potrebbe abbiamo 1,2,3 potrebbe continuare ad andare giù però ovviamente qua abbiamo una zona di demand il prezzo si trova però abbiamo diverse shadow qua sopra diversi massimi decrescenti quindi la view potrebbe continuare ultimamente andare sell anche perché andando a tracciare fibonacci all'ultimo massimo all'ultimo minimo è importante vedete come su 61,8 ha reagito e quindi potrebbe continuare ulteriormente dando un po' anche a restringere il grafico mettiamoci sul giornaliero potrebbe ulteriormente continuare la view ribassista eccolo qua questo è il grafico giornaliero all'interno questa è la zona che vedete se viene rotta potrebbe continuare ad andare giù poi andiamo a vedere partiamo dal DAX i tre indici più importanti quelli che di solito noi andiamo ad operare allora vediamo solo il giornaliero beh il giornaliero il prezzo è andato ad praticamente ad impattare su questa zona di supply eccola qua la vedete quindi come l'avete sentito poi è caduto giù su quattro ore si vede molto bene questo movimento ok e quindi avevamo individuato proprio venerdì durante la diretta live la presenza di un testa e spalle potrebbe qua potrebbe continuare la seconda spalla questa è la linea della neckline per poi andare su vediamo un po' cosa ci offre il mercato la prossima settimana quindi è ancora valido siamo nella prima parte della seconda spalla ok bene andiamo adesso al nasdaq bene per quanto riguarda il nasdaq la situazione legata al nasdaq abbiamo un anche qua sul giornaliero il prezzo risentito di questa zona vedete di rimbalzo ed è caduto direttamente giù portandosi sotto 7512 e 30 quindi vedete quindi questa è la zona un'altra zona di demand fondamentalmente è andata a risentire questa zona e da qua potrebbe ritornare un'altra volta long spostiamoci sul downjones downjones vedete stessa situazione anche qua è andata a prendersi questo 25591 e da qua potrebbero partire qualche movimentazione al rialzo ok bene per oggi per questo fine settimana è tutto quindi ci aggiorniamo con ci vedremo vi auguro nel frattempo un buon fine settimana e poi vi do l'appuntamento per la prima diretta live dell'ultima settimana del mese di agosto per lunedì prossimo alle ore 8 e 30 di nuovo buon fine settimana a tutti grazie a tutti